Ed è arrivato il video Shakerando di Capodanno Vieni guardate un po' adesso shakeriamo tutti vai Io al 5-4 sono un caso che è morto E un caso che vuoi dire a Roma ma 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 cos'è Ci tocchi, ci stavo preoccupando Tranquilla monosso, perché sto shakerando Shakerando, shakerando Guardate la bella scelta di Capodanno delle bagnone signori E stasera qui facciamo il filmondo Shakerando, shakerando Signori questo video è andato su Facebook domani Non vedo cosa diventa, domandate cosa c'è qua ragazzi Guardatevi un po', vieni guardatevi Quanto è bello essere qui stasera signori Shakerando, shakerando Non vedo cosa diventa, domandate cosa c'è qua ragazzi Guardatevi un po' adesso 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 c'è qua ragazzi Ciao Ciao Ciao